Sono stati deferiti in stato di libertà i due giovani pizzicati dalla polizia di stato nei pressi del parco del mercatello a Ferragosto. I due ragazzi, entrambi 19 anni ed entrambi incensurati, sono stati bloccati dagli agenti insospettiti dai loro comportamenti. La perquisizione ha permesso di rinvenire all'interno di un borsello 4,28 grammi di hashish, la somma di 365 euro in banconote, un coltello a scatto ed un manganello lungo 43 centimetri. Poco lontano dal luogo del controllo inoltre è stato rinvenuto un borsellino occultato dietro un cestino per i rifiuti con all'interno due pezzi di cocaina per un totale di 80 grammi. Per tale motivo i due sono stati deferiti in stato di libertà l'autorità giudiziaria per possesso finalizzato allo spaccio di sostanze stupefacenti ed il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.